Quando i ragazzi iniziano a studiare, devono iniziare dallo studio delle materie teoriche o devono iniziare dai compiti scritti? Domandona! Ci sono tanti fili di pensiero che dice no, 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 prima bisogna fare tutti i compiti scritti, così una volta che li hai fatti non ci pensi più. Chi invece dice no, no, è meglio fare assolutamente le materie di studio perché richiedono più concentrazione. Chissà dove starà la verità. Sicuramente una strategia che ci può venire incontro sono i cicli di studio. I cicli di studio dicono che bisogna alternare lo studio in momenti dove richiedono più difficoltà, più concentrazione, in momenti in cui per i ragazzi invece è più facile fare quell'attività. Dunque la prima cosa da fare è fare un elenco di quali sono le materie facili per tuo figlio dove, non so, per esempio ci sono dei ragazzi che adorano fare matematica, lo prendono un po' come un gioco, sono molto veloci, riescono facilmente nella logica, dunque per loro fare gli esercizi in matematica è un'attività facile. Per alcuni invece matematica è difficile, magari anche un carico emotivo, di ansia, di preoccupazione, magari fanno fatica nella logica, fanno fatica nella concentrazione, nel seguire tutti i passaggi, per loro la matematica rientrerà in un'attività difficile. Oppure tutte le materie di studio, le materie di studio richiedono memoria, richiedono concentrazione, per alcuni rientrano in attività semplici da fare, per altri invece rientrano in attività difficili. In più bisogna considerare anche i gusti personali, perché per esempio ai nostri corsi abbiamo dei ragazzi che ci raccontano, ah io odio storia dell'arte, dico chissà come mai. In realtà il ragazzo ha anche dei voli vuoti, magari a 7 o 8, perché storia dell'arte per lui è semplice da studiare, però quando inizia a studiarla fa fatica, ha comunque un impatto emotivo di fastidio, di non motivazione, dunque rientrerebbe di più nelle attività difficili da fare. Ok, una volta che hai questo elenco dobbiamo alternare lo studio con materie, attività, che possono essere o compiti scritti o studio difficili, a momenti più facili, più leggeri. Anche perché mentre stai studiando magari questa materia che per te è difficile, che può essere, non so, per qualcuno storia dell'arte, so che una volta che avrò finito questa materia, dopo avrò un momento più leggero, che magari sono esercizi di matematica, o studiare inglese, che magari mi viene spontaneo studiare inglese. Una volta che avrò finito inglese, so che dopo invece avrò un'altra mezz'ora, 40 minuti invece, dove dovrò essere concentrato, perché magari devo studiare diritto, fare le mappe, le flashcam, tutte le tecniche che mi servono per memorizzare diritto, che per me magari richiede molto molto più impegno. Dunque, alterniamo queste materie. C'è anche una piccolissima eccezione. Di solito la regola è inizio dalla materia più difficile, però se tuo figlio fa tanta fatica a iniziare lo studio, a iniziare a studiare tra le tre ma faccio fatica, allora iniziare con la materia da lui preferita lo potrebbe aiutare nell'inizio dello studio. Ci vediamo sulla pagina per altri video.